Entriamo subito nel vivo con Claudio Pomella dell'associazione Canapa Live che in qualche modo ci introdurrà un po' gli argomenti di questo incontro. Sì, poi riassumo magari anche un pochino in parte quello che è stato il ruolo dell'associazione nella regione. Buonasera a tutti, parla a nome dell'associazione Canapa Live che è nata appunto nel 2005 nella realtà regionale del Lazio, in particolare nel quadrante nord sui monti della Tolfa, in particolare nel territorio di Allumiere dove appunto è stato realizzato negli anni passati un vivaio dove sono state realizzate piante in vaso ad uso ornamentale dove appunto poter riuscire a reintrodurre la coltivazione di Canapa e soprattutto farla vedere la pianta in sé che diciamo così andava coltivata e va coltivata per reintrodurla nelle case di ognuno di noi proprio perché è un bene di cui si è sempre avuto alla disposizione in Italia e quindi riprendere un pochino quello che è stato il passato. Non so se è possibile adesso mostrare, ho preparato alcune slide. Posso andare col telecomando? Quindi ecco, dicevo l'associazione Canapa Live e una delle cose più importanti appunto che ci interessano è proprio la salvaguardia delle biodiversità e la canapa è proprio rappresentativa della perdita delle biodiversità che abbiamo su tutto il territorio, non soltanto italiano purtroppo, proprio perché si va sempre verso la monocultura sempre di più e soprattutto si perdono poi molte delle varietà naturali che avevamo a disposizione. Purtroppo gran parte dell'eredità di sementi che avevamo a disposizione di Canapa sono andate perdute per sempre, varietà che rappresentavano la produzione nazionale più importante rispetto alla qualità della fibra e anche rispetto alla quantità prodotta, eravamo insomma il secondo produttore mondiale da pure la Russia, lo sappiamo tutti. E quindi la Canapa è proprio rappresentativa di questa perdita delle biodiversità. Immaginiamoci ad esempio il territorio italiano dove ad esempio magari possano sparire dal paesaggio ad esempio tutte le coltivazioni di vite che abbiamo a disposizione, tutte le colline dell'Italia, immaginatevele senza la coltivazione di vite, sarebbe proprio una surdità ed è purtroppo proprio quello che è successo con la Canapa. E immaginiamoci poi anche un po' tutto l'indotto che c'è dietro ad ogni produzione, quindi la Canapa, la produzione di tutti i beni che erano tradizionali e comuni per tutti. Parliamo di una pianta che appunto è una coltivazione prevalentemente biologica in quanto non richiede l'uso di gran parte di pesticidi che vengono usati nella chimica oggi. E quindi anche per quanto riguarda l'irrigazione non è sicuramente una pianta come il mais o come altri tipi di colture che richiedono molta irrigazione. Quindi ci sembra uno riproporre la Canapa proprio non soltanto nelle produzioni culturali e agricole ma anche e soprattutto pure per la salvaguardia del paesaggio. E' proprio quello che con il progetto delle piante in vaso vogliamo proporre, cioè reintrodurre appunto nelle case di ognuno di noi, in ogni territorio, la Canapa come una pianta normale come tutte le altre che non ha nulla da invidiare ad esempio a qualsiasi tipo di pianta ornamentale, pensiamo all'oleandro, alla rosa, a qualsiasi tipo di pianta anche ad uso ornamentale, ebbene la Canapa non ha rispetto a questo nulla da invidiare insomma. E quindi attraverso questo progetto diciamo così tentiamo di sdoganare la cultura e la coltivazione di Canapa proprio per mettere in evidenza tutti gli usi possibili e tutti diciamo così gli aspetti di cui la Canapa può essere partecipe. Quindi anche un altro aspetto importante è quello della promozione dell'informazione che è stato fatto durante gli anni e che abbiamo intenzione di ripercorrere insomma. Vediamo alcune immagini rispetto magari all'informazione che viene data che è capillare proprio dalla persona adulta, dalla persona anziana fino al bambino, mentre la persona anziana magari ha ancora dei ricordi. Invece il ragazzo giovane magari non ha proprio alcuna conoscenza insomma della pianta e chiaramente insomma ha alla mente solo un tipo di uso e non conosce affatto tutta quella che è la tradizione che c'è stata in Italia appunto. Vediamo appunto all'opera adesso anche qui presenti i fratelli Domenico e Settimio Bernardini che hanno fatto un lavoro importantissimo, sono stati i nostri maestri per quanto riguarda appunto l'iniziativa di questo percorso di rivalutazione della cannava, hanno realizzato il primo museo monografico su uno degli aspetti della cultura contadina e quindi andare a valorizzare un territorio proprio rispetto ad una tipica coltivazione che nel caso di Bisognano era appunto la cannava e magari se c'è la possibilità Domenico ce lo può spiegare meglio insomma e quindi ecco anche l'aspetto culturale diciamo così della memoria va anche quello salvaguardato e ripreso in quanto appunto era una parte di tutti quanti noi. Sono state raccolte ad esempio ecco mi viene in mente una testimonianza raccolta personalmente nel paese di Canepina dove c'era un signore che si ricordava il nonno che faceva il vino che faceva più ridere nel paese. Questo perché? Perché comunque la cannava era sempre piantata vicino anche ad altre coltivazioni tipiche quale ad esempio la vite e quindi nella botte metteva a macerare alcune piante di cannava che magari prendevano un particolare aroma e questo era un uso, una tradizione che purtroppo è andata perduta e che magari ricordiamo solo noi e che l'abbiamo raccolta questa testimonianza ma nelle pratiche di oggi purtroppo va sempre più perdendosi questo ricordo che troviamo solamente sui libri e non più nella memoria viva delle mani delle persone. Questa è la sperimentazione che è stata iniziata nel 2007 e ovviamente abbiamo sempre iniziato dalle piante in vaso ad uso ornamentale e abbiamo iniziato anche inizialmente a considerare l'aspetto della produzione da biomassa cosa che però poi abbiamo un pochino lasciato alle spalle in quanto appunto come dicevo prima poter produrre impianti di biomassa richiede un grosso sforzo da parte del territorio su una monocultura che potrebbe essere ad esempio la cannava ma questo purtroppo come dicevo prima va poi all'edere quelli che sono i nostri interessi ovvero la salvaguardia delle biodiversità e quindi diciamo così abbiamo un pochino accantonato questo discorso della produzione da biomassa per favorire invece più la produzione da seme per quanto riguarda l'uso alimentare e rispetto a questo siamo andati a fare alcune sperimentazioni questi sono i risultati del 2007 come vediamo anche dal punto di vista della produzione di biomassa la cannava risulta essere molto abbondante e dicevo per quanto riguarda poi le successive sperimentazioni siamo andati più a sviluppare l'aspetto della produzione da seme e abbiamo insieme con l'università della Duscia di Viterbo coltivato diverse cultivar da seme monoiche francese nel particolare e come vediamo dalle immagini ci riferiamo appunto alle diverse parcelle che sono state appunto messe in impianto sono sette varietà come vedete e solo alcune di queste sono state poi raccolte sono state coltivate con diversi tipi di impianto come vediamo dalle immagini ci sono nel particolare due tipi di parcelle una seminata fitta con un'alta densità di piante per parcella quella in alto mentre quella in basso è una parcella dove è stata seminata la cannava in maniera più rata con meno densità di piante per parcelle e questo diciamo così ha comportato diversi aspetti quelli che Masnegari possiamo verificare a colpo d'occhio sono ad esempio la compattezza ovvero il fatto di reagire ai fattori ambientali in maniera diversa ovvero ad esempio le raffiche di vento che possono danneggiare le piante spezzando i rami ad esempio sono molto più pericolose per impianti diciamo così parcelle coltivate rade piuttosto che fitte perché quelle fitte fanno un vero e proprio effetto muro in quanto ogni pianta si adagia poi all'altra pianta e quindi subiscono meno i fattori ambientali altro fattore importante è la presenza delle infestanti dove nelle parcelle più fitte grazie all'oscuramento delle piante che andavano subito a crescere si evitava la crescita appunto e la nascita delle infestanti cosa che invece non accadeva per quanto riguarda gli impianti con parcelle diciamo più rade dove appunto si vede nelle immagini appunto la nascita di un infestante e invece un altro fattore importante da prendere in considerazione è sicuramente l'altezza per quanto riguarda poi l'aspetto della raccolta in quanto un impianto molto fitto tende a far crescere le piante molto in alto e questo crea purtroppo disagi per quanto riguarda la raccolta dei semi mentre invece per quanto riguarda le parcelle più rade l'altezza è più contenuta e quindi si facilita la raccolta dei semi grazie ad una semplicemente trebbia comune senza particolari modifiche e questo diciamo così è uno degli aspetti che siamo andati a valutare a verificare e soprattutto poi anche in funzione delle diverse parcelle la produzione di olio e di semi che c'è stata un altro aspetto importante che vogliamo mettere in evidenza è il fatto che purtroppo ci sono limitazioni nella coltivazione della cannava in quanto è necessario purtroppo coltivare sempre e solo sementi certificate e quindi come possiamo vedere dall'immagine c'è una foto che è andata spontaneamente dal campo da semi caduti naturalmente ebbene purtroppo piante come la suddetta sono purtroppo illegali risultano illegali in quanto non è proveniente da semi certificato e quindi si rinuncia diciamo così ad una pianta che ha già tecchito e che già si è adattata diciamo così al territorio per invece favorire un seme nuovo che viene certificato chissà in quale luogo sicuramente non nel territorio dove questa pianta magari è nata e questo diciamo è uno degli aspetti che purtroppo sono molto limitanti per quanto riguarda una coltivazione biologica naturale e concludo insomma il mio intervento con questa immagine dove volevamo rappresentare un po' quello che è la produzione del presente di oggi ovvero un'industria basata sulla chimica e sull'inquinamento purtroppo per gran parte delle realtà industriali del nostro pianeta e come invece sarebbe possibile e quindi riprendere un pochino quello che è stato il passato e diciamo così proiettarlo verso il futuro attraverso quella che è un'agricoltura ed un'economia sostenibile che è quello di valorizzare appunto il territorio singolarmente proprio dalle azioni proprio più piccole quindi riuscire a cercare di realizzare degli impianti che siano domestici e che non abbiano diciamo così la pretesa di estendere necessariamente il volume di affari e di profitto che magari ci può essere in una realtà industriale e rispetto però a quello che è la realtà industriale ci interessa appunto promuovere nel Lazio la nascita però anche di filiere di trasformazione del prodotto perché comunque se pensiamo a filiere corte, filiere piccole come potrebbe essere ad esempio la produzione di seme e di olio allora anche il piccolo coltivatore potrebbe diciamo così essere interessato ma per quanto riguarda ad esempio la lavorazione della fibra e se pensiamo ad esempio a tutto il discorso che c'è sulla bioedilizia ebbene lì necessariamente a livello industriale devono nascere sul territorio realtà in grado di trasformare le produzioni che vengono proposte sul territorio e quindi anche una crescita diciamo così equilibrata sia di filiere industriali che chiaramente dovranno rivolgersi ad un mercato produttivo di produttori appunto in grado di soddisfare le necessità dell'azienda e di una filiera che voglia trasformare la canapa e con questo ecco concludo dicendo solo che a livello regionale ci siamo anche interessati a far venire fuori la legge sul piano legislativo appunto di chiarire anche sul territorio quelle che sono le indicazioni nazionali per quanto riguarda la coltivazione di canapa e su questo però ecco abbiamo ancora molto da lavorare detto questo vi ringrazio grazie a te Claudio per questa illustrazione molto interessante